Arriva la sesta sconfitta in campionato, la seconda consecutiva per la Virtus Francavilla che in terra campana soccombe per due reti a zero al cospetto della Juve Stabia. Partita non semplice per i pugliesi, con poche occasioni e in dieci uomini per tutto il secondo tempo con Maiorino espulso nel recupero della prima frazione di gioco. La partita si apre subito con i padroni di casa pericolosi, al sesto Pandolfi supera Ida, entra in aria e sotto misura manda la palla alta, al dodicesimo risponde Maiorino dal limite, conclusione debole centrale, facile per Barosi, al diciassettesimo la Juve Stabia passa in vantaggio, sempre Pandolfi sfonda a sinistra, palla e mezzo, D'Agostino la fa passare sotto Avella con un colpo di tacco pregevole, interno sinistro e 1-0 per i campani che insistono nella loro azione offensiva. Al trentacinquesimo Pandolfi tutto solo davanti ad Avella si fa ipnotizzare, palla respinta, tre minuti dopo, trentottesimo, ancora il sette, vince la sfida con Ida in grande difficoltà, conclusione al lato di non molto, raddoppio che sembra vicino e in effetti si concretizza, al quarantesimo lancio per D'Agostino che aggancia bene, tiro ad incrociale, pallone in rete, e 2-0 Juve Stabia, Virtus Francavilla che sembra in balia dei padroni di casa ma prova a dare qualche segnale, minuto 43, Ida di testa, prende bene il tempo ma non la mira, palla a lato, al quarantottesimo in pieno recupero i pugliesi restano anche in dieci uomini, Maiorino entra così su D'Agostino lanciato a rete per l'arbitro e fallo da cartellino rosso, dalla punizione successiva Avella e Super su Scacca Barozzi, intervento che fisse il tabellino sul 2-0 all'intervallo. Nella ripresa ha poco da segnalare, la Juve Stabia gestisce e prova a pungere come al quarantanovesimo minuto, Pandolfi rinvia ancora l'appuntamento con il gol, palla sull'esterno della rete, i ragazzi di Calabro con orgoglio ci provano al 67esimo in contropiede, Cardoselli, Pierno e infine Patierno non riescono a concretizzare, l'attaccante Bitontino coglie anche l'incrocio dei pali, Legno che si ripresenta sulla strada della Virtus anche al 73esimo dal calcio piazzato, punteggio che resta così sul 2-0 sino al termine del match, periodo complicato per i pugliesi che entrano anche in zona play-out, ma Calabro resta in panchina, nel prossimo turno sarà derby pugliese alla nuova Redo Arena contro il Taranto.